buongiorno a tutti qui arduino schenato da iar forex.com e in questo video voglio mostrarti un'operazione con la pin bar la pin bar è una delle informazioni grafiche che utilizzo da 15 anni è un'informazione grafica che va ovviamente contestualizzato sul mercato ma una volta che si viene a creare e dalla giusta contestualizzazione direi che uno dei delle informazioni più efficaci per fare trading con la price action allora a questo punto che cosa devo vedere ovviamente devo vedere una barra che ha uno spike importante ed ha un corpo piccolino un po questa tendenzialmente meglio che la pin bar abbia il corpo nella direzione del trend quindi che ci sia diciamo un corpo bianco per una direzionalità long e un corpo nero per una direzionalità short in realtà non è così e importante però diciamo che linea di massima solitamente è così diciamo che ci deve essere una chiara spinta rialzista e una chiara bugia nella parte bassa nella parte alta in base al tipo di pin bar quindi una un falso minimo un falso momento al ribasso o al rialzo che porta via per il movimento al ribasso svariati minimi precedenti o svariati massimi precedenti e poi recupera questo è un'informazione grafica che va a crearsi costantemente sul mercato io ovviamente la utilizzo su grafici alto time frame ricordatevi io utilizzo grafici weekly daily quattro ore non utilizzo grafici più bassi di questo è una cosa che voglio sottolineare le pin bar non sono poi dei pattern che si possono automatizzare quindi scordatevi con queste cose sistemi automatici perché non ha nessun senso fare pre section in questo modo la pre section va a ragionare quindi chi fa pre section va a ragionare sul mercato e quindi anche nel momento in cui si crea un input del mercato chiaro e diciamo graficamente corretto nella sua come dire la sua formazione e contestualizzato con volatilità aree di domande offerta trend eccetera quindi la struttura è un qualcosa che si può andare a tradare e vi mostro un esempio di questo metodo di lavoro che ho fatto tra l'altro qualche tempo fa neanche tanto tempo fa insomma intorno a fine maggio ed è questa pin bar che trovate qui sul dollaro yen questa vi faccio vedere un po come si può tradare ovviamente ci sono svariati metodi però comunque oggi vi faccio vedere quello un po che ho fatto io quello che comunque si può tendere a fare e per avere anche una miglioria nella operatività allora intanto notiamo come il mercato aveva fatto un minimo e un massimo poi ha fatto un swing quindi ragioniamo sui swing ogni volta che si fa pre section è poi ancora swing poi crea una base una base che non riesce a guardate chiudere praticamente sotto quest'area se non questa giornata cioè rimaniamo sempre su questa zona 107 50 quindi una zona altamente importante quindi vedete il ragionamento il contestualizzare mercato che ha iniziato a fare dei swing 1 2 3 3 che rompe il 2 swing high 4 movimento di base e proprio questo giorno qui eccola qui si viene a creare eccola qui questa che è una chiarissima pin bar in questo caso è anche un inside fake out c'è uno dei miei input più importanti quando un in 6 fico anche una pin bar è sicuramente molto interessante e quindi che cosa che cosa si può fare beh si può optare per inserire un ordine pendente by stop direttamente su breakout della pin bar con stop sotto il minimo della pin bar e si avrebbe una chiara diciamo impostazione molto classica con diciamo sul primo livello importante che a questo punto è questo massimo qui che vedete qui segnato con questa zona tratteggiata si avrebbe circa un 1 a 1 o poco superiore di risk reward per carità niente di male ma si può fare di meglio quindi si può poi anche optare per un inserimento di un ordine pendente a metà della pin bar quindi al 50 per cento del range massimo e minimo di questa pin bar in questo modo vedete che andando a entrare su questo livello con un buy limit come ordine con uno stop su questo livello avremo vedete un 1 a 1 qui un 1 a 2 qui un 1 a 3 qua e praticamente andremo a sviluppare sicuramente un rapporto rischio reward molto molto migliore e quindi è ovviamente diciamo una volta che si trova questo input sul mercato è ovviamente preferibile cercare delle entrate migliorative insomma come questa anche se non è sbagliato assolutamente entrare a breakout oppure si può andare a prendere per esempio nelle giornate successive il grafico a quattro ore in questo caso vedete che il mercato questo era il 29 di maggio quindi qui abbiamo il 31 questo qui sarebbe la domenica notte quindi il 31 l'uno di giugno e in questo caso tra l'altro il petro trade che è stato anche fatto sul platino in questo caso guardate cosa è successo praticamente l'uno di giugno guardate ci trovere a ci trovevamo in una situazione di questo tipo cioè c'era stata la pin bar che sarebbe stata questo movimento qui al rialzo con falsa rottura di questi livelli quindi me li segno tanto per farvi capire falsa rottura di questo di questo di questi minimi che sarebbe stata la base daily che vedevate questa è la pin bar falsa rottura quindi bugia pinocchio bar è una bugia ritorno e guardate anche il 4 ore in questo caso ci conferma un'impostazione long quindi a questo punto ancora di più che cosa si potrebbe fare si può andare a ricercare un long quindi riprendo un attimo quello che è eccolo qua un long che è all'interno della pin bar con obiettivo sempre l'area diciamo 109 109 6 che sarebbe questa zona qui andiamo a vedere che succede guardate vado a prendere quindi il mio long su questa zona qui quindi prendo il long su breakout di questo vado a impostare il mio stop non serve sotto il minimo a daily ma basta sotto il minimo a 4 ore e quindi in questo caso vedete che se vado a prendermi il come livello il 109 e 06 eccolo qua 0 4 vedete come anche qui vado a produrre un movimento di prezzi quindi se qui avevamo un circa 37 per cento 40 pips come potete vedere meno 0,44 sono 40 pips ne andiamo a prendere sul mercato 127 128 quindi stiamo superiore anche di 1 a 3 di risk reward con la conferma che ci ha dato il 4 ore di voler poi ripartire e salire quindi avete visto come il connubio tra una pin bar daily e una pin bar poi a 4 ore può diventare letale e anzi oltre ad avere una conferma in più quindi a confermarci l'idea che il mercato possa salire in questo caso abbiamo anche una miglioria del rischio rendimento solitamente il rischio rendimento in questo modo si migliora sempre almeno leggermente perché è ovvio che il mio stop diventa più piccolino e tendenzialmente quindi il mio obiettivo rimane quello poi del daily e quindi si migliora però insomma la conferma è anche molto importante così abbiamo due cose che migliorano il tipo di setup quindi vedete come tradare le pin bar può essere molto efficace è ovvio che ci vuole esperienza ci vuole formazione su questo noi sui forex la facciamo da tanti anni ripeto non è uno di quei pattern come dire magici che si mettono su un trading system e si fanno lavorare da soli assolutamente no questo ovviamente dovete inserirlo nella vostra testolina price action è un metodo che cerca di contestualizzare e ragionare sempre sul mercato bene a questo punto anche per oggi è tutto spero che il video vi sia piaciuto vi chiedo ovviamente di commentare sotto di mettere un mi piace iscrivetevi al canale e quindi ci vediamo al prossimo video un saluto a tutti